e buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui dopo tanto torniamo finalmente a parlare di lore oggi ci dedicheremo quindi all'ultimo libro di lore che Bungie ci ha fornito ovvero quello ottenibile dalle prove di Osiride e che ci racconta qualcosa di più sull'origine e la funzione di questa leggendaria competizione tuttavia il libro tratta anche di altri argomenti molto interessanti proprio legati all'oscurità, alle lame piramide e a quello che ci aspetterà con l'arrivo dell'anno 4 ci basti infatti pensare che il libro viene catalogato in game sotto la sezione oscurità iniziamo quindi con il parlare di Mercurio, del vecchio faro e più precisamente di fratello Vans colui che ad oggi sappiamo essere considerato il più grande seguace di Osiride ebbene in questi libri è narrata proprio la storia di fratello Vans da quando si è avvicinato al culto di Osiride fino ad oggi tutto ebbe inizio quando Vans non era più che un semplice discepolo del culto discepolo che tuttavia era stato notato da uno dei seguaci di rilievo, sorella Faora che considerava Vans capace di vedere ciò che agli altri veniva celato la conferma di tale dono avvenne quando il faro subì un'incursione da parte dei cabal durante l'attacco infatti alcuni guardiani convertiti al culto vennero uccisi e non appena le loro spette li reanimarono un suono particolare raggiunse all'orecchio di Vans un suono quasi impercettibile che lui descrive come un ronzio il cui timbro era l'unico della risonanza di due suoni diversi uno morbido e caldo e l'altro freddo e tagliente durante la battaglia lo strano rumore si ripeteva ogni qual volta che un guardiano veniva di animato fino a che Vans non è compreso l'origine, il suono veniva proprio dal faro ed è quindi così che fratello Vans decide di fondare le prove di Osiride una competizione esclusiva per i guardiani che hanno un legame molto intenso con la luce a tratti da incredibili ricompense le prove non furono altro che un grande esperimento da dito solamente a scoprire l'origine e la funzione di questo misterioso suono a tal proposito vi consiglio di leggere il quinto capitolo dei libri dei trionfi nel quale viene riscritto splendidamente un combattimento tra due squadre di guardiani ora come chi ha giocato a Destiny 1 saprà fratello Vans ha un rapporto di fedeltà e rispetto nei confronti dell'Atollo e di Marasov regina degli insonni ebbene qui viene proprio descritta l'origine di questo rapporto mosso dalla curiosità delle sue ricerche infatti Vans chiese di parlare con la regina questo perché per chi non lo sapesse le conoscenze degli insonni riguardo a luce e oscurità sono ben più profonde rispetto a quelle dei guardiani gli insonni infatti vengono spesso definiti come creature che abitano al confine tra luce e oscurità attingendo il potere da entrambe le forze un chiaro esempio è quello di Marasov e del suo immenso trono mondo ebbene nell'incontro tra fratello Vans e la regina il seguace di Osiride condivise la sua scoperta sperando di ricevere un'opinione al riguardo tuttavia gli venne risposto che gli insonni erano già a conoscenza del fenomeno e che il potere che lo originava era ben più grande di quello che Vans o qualunque altro seguace avrebbe potuto gestire deluso Vans fece per abbandonare l'Atollo venendo tuttavia fermato dalla regina che gli diede un messaggio da riferire ad Osiride in persona la fiducia di Mara riempì quindi di energia fratello Vans ora ancora più desideroso di concludere le sue ricerche tuttavia non ci volle molto perché l'evento che permetterà a Vans di comprendere il suono misterioso fu proprio l'attacco della legione rossa proprio nel momento in cui Gaul strappò la luce ai guardiani nelle prove due squadre si affrontavano e un guardiano andò incontro a quella che viene chiamata a morte definitiva per la prima volta il suono fu diverso non più duplice ma un'unica nota grave e profonda da qui la teoria di Vans fu confermata il rumore che risuonava all'interno del faro non era altro che l'eco dell'energia che attraversava i guardiani un suono dolce e uno grave l'unione tra luce e oscurità un equilibrio ebbene quella volta l'equilibrio fu spezzato un'unica nota raggiunse l'olecchio di Vans impaziente quindi di condividere la scoperta con il suo maestro Vans si precipitò ad Osiride e andò per la prima volta incontro alla realtà Osiride non aveva infatti mai supportato il culto dei suoi seguaci e la sua unica reazione fu un severo rimprovero al ragazzo che aveva dedicato la sua vita a segnare forze che non poteva comprendere mettendo ad eschio se stesso e l'intero universo tuttavia questa non era altro che una maschera che lo stregone continuava a portare per allontanare i seguaci dalla pericolosità delle sue scoperte nel libro viene infatti riportata una discussione con Sagira che riconosce l'utilità e le implicazioni della scoperta di Vans il seguace ormai distrutto dalla brutale sincerità del maestro si ricordò però del messaggio che la regina gli aveva affidato e riferì dunque a Osiride di piantare il seme non sappiamo cosa Mara volesse dire al vegetale del tempo ma abbiamo sicuramente notato il suo strano comportamento nell'ultimo periodo che forse il seme da piantare sia l'innesco del piano per sventare l'assalto delle nami piramide che questo rappresenti quindi tutta la vicenda che stiamo ormai vivendo dall'inizio della stagione dell'alba ad oggi è ancora presto per dirlo anche se il libro ci racconta un dettaglio decisamente interessante il primo e l'ultimo capitolo descrivono la genesi e l'apocalisse di Mercurio inizialmente meccanicizzato dai Vex viene spiegato come questo non fosse altro che un procedimento di preparazione in attesa dell'avvento dell'oscurità avvento che proprio fratello Vans sarà in grado di predire grazie ad un'oscura visione in cui l'ombra triangolare si allunga sui pinnacoli di Mercurio questa predizione annuncia un futuro decisamente in Fausto che implicherebbe l'impronta del dominio dell'oscurità sull'intero sistema solare sappiamo che quasi sicuramente con l'inizio dell'anno 4 dovremmo dire addio ad alcune destinazioni del gioco come per esempio Titano ma dobbiamo tuttavia preoccuparci che le nami non si fermeranno lì sarà dunque questa la visione che dovremmo portare avanti con l'espansione autunnale quella di sventare la visione di Vans di fermare l'avanzata dell'oscurità e di salvare il mondo come lo conosciamo quindi ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto se è cosa è stato vi invito a dire la vostra nei commenti lasciare like e condividerlo e detto questo noi ci vediamo alla prossima ciao siamo la tua salvezza ciao